Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con Kratos e con God of War Kratos che ha qualche chilo di in più visto che è passato il Natale ecco l'occasione raga, auguri ancora a tutti passate un bel Capodanno pure, un bell'anno nuovo io sto andando qui senza sapere però forse ha fatto bene no, forse no si spaccano queste cose ma qui dopo dovremmo andarci se no pacco 2 mi sono spaventato vantacci carnepromante lo stregone evocatore che parla il latino ma che spettacolo ecco, ho spappolato il negromante no no portacci su ma non si ce ne sanno si sentilo 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 lo stregone l'evocatore l'evocatore quel 2 c'avevo meno ricordi di tutti no stem paravano ok a posto non fido stem una sopra l'altra però bravo come ci salgo l'è ah si forse lo so aspetta aspetta ho capito ho capito ho capito per forza così e dai e dai e dai mezzo buggoso ma per un sale non proseguiamo per la nostra strada mi invidi a fare questo non c'era bisogno oh oh do cazzo devo andare scusami oh qui qui sotto mamma mia questo segue ma facile è veramente è brutto però ecco questi sono dei tercone stunning ah ah eh mortacci loro comunque hanno resistito abbastanza con l'ira dei titani mortacci loro ma no tocca spegnolo ah eccola ecco il masso ottimo pigli strelli pare che all'assato manchi lo scudo ah beh sì serve quello per riflette ok ok qui che ci abbiamo una piuma avrei detto un occhio che cazzo è sta roba poi c'era qualcosa ok andiamo di qua oh che cazzo è e svele benf sdraa e sblaa spettacolo ah soffrendo facilissimo quindi salviamo ok ah ma pensa te ma pensa te ottimo ottimo tutto ma tutto sto cosa beh c'è un coglione ah ok ok vedo ottimo l'abbiamo l'abbiamo ho visto ok ok l'abbiamo arrivato tutto l'abbiamo l'abbiamo Forza, forza, veloce. È forse un po' di tempo, ma è perfetto. Ottimo. Vabbè? Ma che cazzo vuol dire? Ah, ok, ok, perfetto. Ottimo inizio. Ottimo. Piemaci un po' di vita, giusto per... E qui? Ah, ok. Lo scudo qui, no? Che cazzo vuol dire? Quella porta era la sola via di fuga. Ma che bordo? Ho superato una prova dopo l'altra per trovare le sorelle. E ora hai reso tutto inutile. Non sei all'altezza della tua fama, fantasma di Sparta. Cioè, com'è questo? Ma... Forse anche questa è una prova. Mi state osservando, sorelle? Datemi un segno! Io, il grande Perseo, devo uccidere questo... Ah, Perseo. Riuscirò così a sottrare la mia amata dalle grinfie di Ade in persona? Mh? Ma se anche... Fatti avanti! Se possa io almeno gloriarmi di essere colui che ha battuto... Fatti avanti! Per quanto non creda che è un povero sciocco come te meriti un Natale numero. Oh, vada! Diventa invisibile con l'elmo. Mmm... Kratos versus Perseo. Fight! Round 1 Oh, dai un po'. Sono qui! Tiè, guarda che 4. Ma tanto mo' lo sfannamo. Mo' lo sfannamo. Ah, beh, non riesco a fargli il cerchio. Strà! Ah, io ho rotto... Io ho rotto l'elmo. No, lo scudo ci serve. Strà, strà, ma lei, vada. Ah, ah, ah. Che cazzo è fata. Marco... 2. Ti disintegro. Ah così Morto affogato Bello Straaa Bellissimo E' acquisito pure lo scudo Easy bro Vedi? La porta era chiusa ma C'è il passaggio qui Dio Niente Innanzitutto devo portare la statua Di sotto Ah a parte io devo mettere lo scudo no? Ah Boom Però una volta ho fatto questo C'è il passaggio perciò che posso farlo? Uh huh Uh huh E quest'altro? E quest'altro? E quest'altro? Grazie a tutti. chiede che ce la faccio in tempo? non credo regà, vediamo ok no forse sì ce la facciamo, la facciamo? scende ottimo e continuiamo, no non salvo certo lo scudo sarebbe bello ripiarsi che musiche, che viaggio epico ok forse dopo ok quello è l'uccello con... di quelli la che si mettono la sopra a volare oh cazzo sta... ahhh beh toccasare qui ottimo ottimo ohhhhhh Ah qui gioia il coso, ottimo Ma c'abbiamo una nuova arma Questa è una nuova arma Grazie a tutti A parte potenziamo alle spalle del caos Anzi di Atena Ok continuiamo qui Dobbiamo girare sta cosa Ma perché sei così pesante Mortacci tua Ottimo Possiamo proseguire Ma chissà quel coso lì Ok Proseguiamo Vada qui crolla tutto Non ora Non ora Non ora Non ora Oddio Ok 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 Atrobata Ottimo Do cazzo sono finito? Ecco sicuramente pieno di trappoli e spuntoni di merda a tempo Che mancano Che mancano E invece no Uuuu E sirena Che sa dovrebbe spaccano Svev Svev Finito eh? Oh merda Vabbè, dilaniato Orco 2 Ottimo Che vuole questo? Abbiamo trovato l'arma perfetta Ma vediamo l'ira con questo, con quest'arma All'unità merda E si conclude in bellezza Con una bellissima esecuzione Avanziamo E il grande abisso Anche se mo Ora salviamo, eh ragazzi Anche se c'è il salvataggio è lì Quindi non capisco E io regà direi di chiudere qui E ci vediamo al prossimo episodio Bella